ciao a tutti oggi prepareremo la torta tenerina al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa ingredienti sono 4 uova tuorli albumi separati pizzico di sale zucchero farina crema al pistacchio e per decorare zucchero a velo e granella di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sopra le lame versiamo gli albumi pizzico di sale e azioniamo il bimbi per 4 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino gli albumi sono perfettamente montati rimuoviamo la farfalla e trasferiamoli in una ciotola capiente senza lavare il boccale mettiamo i tuorli lo zucchero e azioniamo il bimbi per 8 minuti 37 gradi velocità 4 senza il misurino aggiungiamo la farina e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 con il misurino rimuoviamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la crema di pistacchi facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 trasferiamo il composto nella ciotola con gli albumi amalgamiamo delicatamente trasferiamo il composto in uno stampo rettangolare da 35 x 13 cm rivestito con carta da forno cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino ultimata la cottura lasciare intiepidire 10 minuti con lo sportello del forno socchiuso la torta è cotta lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo successivamente decoriamola con zucchero a velo e granella di pistacchio e serviamo torta tenerina al pistacchio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti